Da mercoledì sono state riaperte al pubblico a Frosinone la villa comunale ed il Parco del Matusa. Nel frattempo sono andate avanti le opere di manutenzione delle altre aree verdi del capoluogo per renderle fruibili alla popolazione con le dovute accortezze visto il periodo di emergenza che si sta vivendo. E a proposito di aree verdi a Frosinone, proprio il Parco del Matusa dalla settimana che è in arrivo sarà oggetto di ulteriori lavori propedeutici alla realizzazione del famoso leone al centro dell'area. Ad annunciare la ripresa delle opere nel parco è stato lo stesso primo cittadino del capoluogo Nicola Ottaviani. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria sono stati effettuati anche nel corso di questi ultimi dieci giorni appena il governo ci ha dato la possibilità di rientrare all'interno dei parchi per lo sfalcio delle erbe per la cura del verde. Per quanto riguarda il progetto di completamento di quelli che sono i lavori previsti per rendere ancora più fruibile il Parco del Matusa. Questi riprenderanno la prossima settimana e stiamo per andare avanti con quella che è la realizzazione del leone in terra e quindi anche in erba all'interno di quello che era il vecchio rettangolo di gioco. Questo leone che sarà una rievocazione sotto il punto di vista identitario, culturale e anche sportivo della città permetterà alle persone di attraversare il rettangolo verde non solo in massima sicurezza ma anche nel rispetto di quelle che sono le alberature e le essenze verdi presenti su questo territorio importante ma soprattutto su questo parco urbano che continuerà ad essere fruibile dalla cittadinanza anche in questo periodo particolare.